Carlino e Chihuahua, un ringraziamento agli altri soggetti che lasciano il ring un giro di ring, un bel applauso per il termine all'estite dell'acquistamento cani da compagnia a prevenire i vincitori di questo raggruppamento, il responsabile del settore caccia e pesca della provincia di Mantra, il dottore Gabriele Belli che anche dobbiamo raccogliare, al terzo posto il Chihuahua, al secondo posto il Carlino e vediamo nel testo il vapore grande mole Grazie 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 Grazie